segnale che questa volta è valido e così si cerca di portarsi al comando con il numero 3 venanzo jet nei confronti c'è l'errore numero 7 titano m all'esterno c'è il numero 4 zorbangrad venanzo che leader mentre all'esterno c'è il numero 5 di point la vecch kampf che ha però lo scarierante titano m all'interno si va così a il paletto dei 400 iniziali in 30 con partenza da fermo per venanzo jet che conduce mentre alle spalle si è creato un pochino di vuoto dopo l'errore di titano m ora cerca di emergere ufo robo hp che però viene tenuto all'esterno da point la vecch kampf si va così al completamento della piegata con venanzo leader nei confronti di zorbangrad quindi all'esterno il numero 9 di ufo robo hp che precede besti di poggio e vulcan black in terza pariglia tutto ciò al chilometro passato dal leader nell'ordine del 1 15 e 2 venanzo che comanda a buona andatura mentre il numero 11 paul jolly chiude il treno esterno di corsa per il momento quando siamo ancora a 800 dal traguardo per ora non si muove nessuno ora prova a scoprirsi il numero 12 di vulcan black che va in terza corsia e chiaramente con stringe gli altri ad accelerare 400 al palo a metà la ditta opposta in 33 per venanzo oggette che ancora al comando quando mancano 500 al traguardo una terziglia al suo inseguimento con l'interno zorbangrad in mezzo ufo robo hp all'esterno di tutti i vulcan black si va adesso al completamento della curva con addirittura d'arrivo che voglia ancora davanti venanzo oggette ma arrivano gli avversari capeggiati da vulcan black che è molto incisivo per linee esterne poi arriva anche paul jolly si va agli ultimi 150 di corsa menanzo che viene sollecitato arriva vulcan black arriva paul jolly venanzo ancora avanti su paul jolly che cerca di agguantarlo nel finale venanzo oggette che si salva da paul jolly vulcan black e ancora point lavec camp il successo in testa da un capo all'altro per venanzo oggette che fa due trenta per il doppio chilometro con i nastri e sfugge all'inseguimento di paul jolly che nel finale guadagna molto ma alla fine può essere solamente secondo eccole le immagini rallentate con il tre di venanzo oggette che mantiene una lunghezza filo scarsa di vantaggio nei confronti di paul jolly poi ancora a seguire il numero 12 di vulcan black davanti al numero 5 di point lavec camp e a chiudere il marcatore numero 4 di zorban grad quindi 11 12 dovrebbe essere l'ordine di arrivo di questa seconda triste successo a media di 1 15 e 3 più o meno per venanzo oggette lucio becchetti guida e training colori della signora samantha vitale 3 11 12 l'ordine di arrivo è tutto per il convegno odierno